musica ciao a tutti ragazzi benvenuti a un nuovo video aggiornamento oggi sono qui per parlare di un paio di robe allora iniziamo subito vi dico due cosette riguardo alla serie di minecraft e siccome molti di voi mi hanno chiesto cioè continuo neanche adesso a chiedermi di partecipare alla serie di minecraft e tutto ne ho parlato con samuel e tutto e abbiamo deciso di ci ho deciso perchè poi ho detto che andava bene e ho detto che andava bene e di fare partecipare adesso vi spiego come una persona ogni video come praticamente ogni video e sotto questo video mi lascerete un commento e con scritto tipo partecipo poi quelli che vogliono partecipare e e poi farò se tutto quanto tramite video per non far vedere che baro eccetera e un'estrazione un'estrazione con random.org e quello che uscirà parteciperà ogni video sarà parteciperà una persona diversa tipo episodio 8 partecipa tizio episodio 9 partecipa caglio episodio 10 quest'altro avanti così ogni volta questa cosa non incomincerà da questa serie perchè siccome questa serie di minecraft verrà divisa in in stagioni non incomincerà questa stagione ma la prossima quindi quando finiremo tutto dalla prossima potrete partecipare tutto naturalmente con dei tutto naturalmente con dei cioè ci sono delle regole da rispettare che adesso mi sto a dire allora 1 bisogna essere iscritto al canale poi 2 dovete avere skype o se avete steam è anche meglio perchè così posso contattarvi cioè vi contatto tramite messaggio privato poi dopo vi spiego bene tutto io comunque dovete avere skype o steam meglio se avete steam e poi 3 dovete essere disponibili a scaricarvi team speak 3 perchè noi usiamo team speak 3 principalmente per comunicare e dovete essere connessi cioè a team speak almeno un'ora al giorno perchè perchè il giorno nel quale facciamo video non è delimitato cioè non mercoledì facciamo video cioè quando abbiamo tempo tutti quanti ci siamo facciamo video non abbiamo una cosa precisa cioè una data precisa e tutto quindi dovete essere almeno connessi un'ora al giorno quindi c'è nessun problema perchè ci siamo quasi sempre noi o comunque se non ci sono io ci sono gli altri quindi più o meno ci siamo tutti e poi che altro vabbè dovete avere almeno dico almeno 12-13 anni cioè non gente proprio piccolissima perchè insomma cioè dovete essere almeno coetanici insomma e poi dovete lasciare sotto questo video un commento con scritto partecipo mi raccomando mi raccomando non vogliamo bimbi minchia o comunque cioè vogliamo gente seria che ha voglia di fare di impegnarsi a far tutto e non non potete fare moltipli commenti chi farà moltipli commenti verrà subito escluso e eliminato automaticamente quindi niente multipli commenti e che altro se tipo mettiamo caso eh scrivo di persone estraggo una persona quella persona partecipa al video il prossimo video eh faccio di nuovo l'estrazione e viene di nuovo estratta quella persona quella persona non potrà partecipare cioè finchè non sarà finito il giro perchè è tutto un giro quindi se tipo capita due volte la stessa persona non verrà affatto il video con quella persona ma avrà affatto con quella persona e poi dopo appena finisce tutto il giro che tutti quanti sono stati estratti si ricomincia da capo cioè non in si ricomincia sempre con l'estrazione naturalmente e la seconda cosa era che 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 noi ero e morte a il comparto dead space 2 l'ho già annunciato e che se volete va che cominciamo a fare video di dead space se volete potete se qualcuno ha dead space o è a steam e cose varie può partecipare anche lui non ci sono problemi perchè più siamo meglio ci divertiamo quindi se avete dead space e volete partecipare fatelo sapere e che altro ma niente quindi spero che siate felici che potete partecipare a questa serie di minecraft e niente quindi ve li ripeto vi ripeto velocemente che cosa serve bisogna essere iscritti al canale cosa principale e avere skype o steam che è ancora meglio essere steam essere disponibili a scaricarti in speak 3 essere connessi a team speak almeno un'ora al giorno per essere informati su quando dobbiamo fare video e tutto avere almeno 12-13 anni cioè essere nostri coetani più o meno lasciare un commento sotto questo video con scritto partecipo mi raccomando vediamo gente seria e non si possono fare molti commenti perchè sennò si viene eliminati e niente quindi se volete percepare scrivetemi un commento qua sotto i video che vi ricerano dal prossimo la prossima stagione quindi se volete già cominciare a scrivere un commento scrivetelo e niente tutto qua quindi come sempre noi ci vediamo al prossimo video per questo piccolo video è veramente tutto quindi ciao a tutti grazie 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 grazie